Tintintin Rozzano, sì. Rozzano è un comune di Milano che fa parte della provincia di Milano. Milano, sì. No, ma della provincia di Milano. Dico, dopo ti dico i confini. Ho detto tico, ma non devo dire più. D'accordo, iniziamo la foto di Rozzano. Rozzano è un comune che, dico, quindi c'è una torre di Mediaset, ovviamente quello di Rozzano, ma ci sono gli cittadini che, cittadini di Mediaset su questa torre di Rozzano, che va verso il segnale in un'unque provincia, ma quasi. Solo quelli di Milano o quelli che sono in Ciziano, o forse in Andrano. D'accordo? Beh, Rozzano, tipo, molto in fondo, c'è centro Milano. Beh, almeno. Tipo, niente male, Rozzano. Beh, sapete che cosa parlate? Ma prima facciamo vedere il logo del stato, mi sembra, di Rozzano. È Rozzano, lo stato di Rozzano del comune del logo. Allora, c'è una corona, quasi simile, cercate su Google, ma è quasi simile, la sopra della corona, sembra quasi simile a quello di Verona. Tipo, qui ci sono i fogli, come si fossero i fogli. Qui ci rappresentano ogni comune che fa parte di Milano. Ma non c'è scritto Rozzano, che peccato. Ma c'è lo stato del leone perso. Beh, il logo del leone è il protagonista di questo comune, non forse. Tipo, il re, no, scherzavo, scherzavo. Ma il re, il leone, faceva parte di questo protagonista. Tipo, non è il primo, ma il primo, sì. Ma non è il protagonista, ma sì, è tipo, è un leone. Tipo, sì, sì, è quello di un comune che ho conosciuto con l'Italia. Lo sai quale palestra è molto, è famoso? Tipo, di volo. È Rozzano Volei, una palestra che è molto vicino a una via, a un parco giochi, lo sai, ma fate come lo vuoi dire. Io sì, alla vostra vita, non vi piace, non vi piace l'esporto, Allora, non vi piace, non potete andare, se volete. O se vi piace lo sport, alcuni sì e alcuni no, potete. Allora, quelli che sono, quelli che amano lo sport, possono andare. Quelli che non amano lo sport, non possono andare. Anzi, lo vuole provare, esercitarsi. Beh, tipo, il pallavolo è un simbolo del leone, come Rozzano, ma è molto diverso dall'altro. Beh, spero, sì. Adesso vi faccio vedere Rozzano. Rozzano, è un comune così. È molto così, perché c'è scritto Rozzano comune, o potete mettere comuni di Milano, mappa. Se lo scrivete, se lo scrivete su Google o su Chrome, su sinistra Google, puoi cercare solo con questo simbolo o solo con la voce, con il traduttore Google. Potete mettere immagini. Potete anche fare una ricerca su Google, tipo, ma dei colori. Se trovate Google Maps, allora potete vedere questo comune. Ah, qua. Se lo schiacciate, sì, si può. Sì? O potete... O potete... Non lo so, dai. Continuiamo. Comune di Rozzano. Comune di Rozzano. Rozzano. Oh, no, Rozzano, questo è. Aspetta. Hai capito che è sempre nella metropolitana, in Lombardia. Questo lo dice sempre Google. Significa, è un'altra strada di A50, vicino al fior d'aliso di sempre. Sotto confine con Zip de San Giacomo. Sopra confine con Milano, al nord. A sud ovest confine con Zip de San Giacomo. A sud confine con Basilio. A sud ovest confine con... Pia Emanuele significa Fidsonasco. E invece, a est confine con Opera. E basta, c'è... A nord-est confine con Opera e Milano. Il centro Milano. E invece, al nord-ovest confine con Rozzano. Beh, non potete dire, se siete... Ecco. Il centro Milano è un comune che sopra è a Rozzano. Ma c'è tanti confini. Bisogna farlo un numero, questo. O potete farlo anche un minuto. Se ci mette troppo o non sapete parlare, ci mette un'ora. Penso. Beh, quando impari a parlare... Ma parliamo solo di geografia qua. D'accordo? Adesso vi faccio vedere i comodi di Milano. Beh, allora, confine con Arsago. Centro Milano. Opera. Pia Emanuele, Basilio e Zibrio San Giacomo. Ma molto, molto, molto vicino a Buccinasco. Un confine con Rozzano. Molto quasi. Ma l'importante è che c'è un confine. Tre confine. Basilio. Ho un punto di tre distanze. Tre confine. Pia Emanuele, Basilio e Rozzano. Un punto dove è molto, molto al sud di Rozzano. Ma non molto come quello. Tipo. Acconi incontro confini. Sì, San Giacomo, Rozzano e Asacqua. Altri confini. Pia Emanuele, Opera. E altri confini. Rozzano, Opera e Centro Milano. Frane, tanti, tre confini. Basilio, Zibrio San Giacomo e Rozzano. Tutto quasi Rozzano. Questo? Sì, vero. Questo vero. Beh, ritorniamo al mondo. Beh, spero che vi sia piaciuto questo video. Lasciate un like nella descrizione e iscrivetevi sulla geografia di Pietro. Ciao, 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 ciao. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao.